Perfetto, questo circuito va benissimo per tutti i bambini, anche quelli più piccoli. Però a 6-7 anni loro cominciano a contare le lettere dall'alfabeto, quindi interagiscono di più su questo circuito. Però va bene per tutti, gradi di difficoltà diverso, naturalmente si divertono, saltano e soprattutto comincia la loro competizione sul tempo che ci mettono ad impiegarlo. Claudi, sei pronta per fare il nostro percorso sensoriale e farmi vedere tutto quello che hai imparato dai tuoi circuiti? Prima parola, start, che è in inglese, vuol dire? L'hai studiato con la maestra? Partenza. Partenza, perfetto. Allora, entra nello start e al via salti dentro ogni numero, ok? Chiamandolo. Vai! Uno. Piano, anche con un piede. Tre. Più forte la voce. Quattro. Ok. Cinque. Continua. Sei. Brava. Sette. Occhio. Nove. Stai. Leggiamo bene. Segui la linea, quindi corri più veloce che puoi seguendo la linea. Vai, 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 vai. Gira, gira, gira e fai un bel cerchio. Riprendi la corsa. Gira, 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 gira. Continua. Bravissima. Stop. Entra nei piedi con le gambe e adesso salti con le gambe divaricate e con le gambe unite. Vai, fuori, dentro. Fuori, dentro. Apri bene le gambe e chiudi le gambe. Forza. Vai, 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 Claudia. Stop. Batti tre volte le mani. Ok. Girati di lato, guarda gli alberi. Adesso corsa laterale. Vai, 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 vai. Segui la linea lateralmente. Vai, batti le mani per terra. Dai, continua. Laterale. Continua. Batti le mani per terra. Laterale. Bravissima. Ottimo. Adesso mi fai tutto l'alfabeto. Voce chiara. A, B, C, C, C. Bravissima. E, S. Giusto. G, H, I, L, M, N, O, B. Non passare sopra. S, T, U, Z. Bravissima. E adesso grandi salti. C'è il mare. Devi saltare su queste piattaforme. Sempre più lunghi questi salti. Uno. Vai. Due. Vai. Tre. Quattro. Corsa. E adesso qui hai uno speed. Devi girare su te stessa dieci volte. Vai, vai, vai. Uno. Gira, gira, gira. Due, tre, quattro. Continua a girare. Ti gira la testa. Continua, 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 continua. Stop. Ranocchia. Entra bene. Giù con le mani. Frog. Via. Salto. Jump. E appoggio le mani. E appoggio le mani. Continua a saltare. Corsa. Via. Stop. Ottimo lavoro. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti.